Ciao a tutti gli amici di AndroidBlog.it, stiamo provando la videocamera del Mode H600 Plus che presenta una fotocamera da 13 megapixel che sostanzialmente svolge abbastanza bene il suo compito andiamo a vedere un po' come si comporta se mettiamo a fuoco su qualche oggetto o anche la nostra solita pianta andiamo a mettere qui a fuoco e non ci sono particolari cambiamenti come avete potuto vedere proviamo subito un pan veloce un controluce anche se oggi è una giornata abbastanza nuvolosa e vediamo la possibilità di zoomare durante la registrazione fino a 4x anche se vedete la qualità del video è veramente molto scarsa quando zoomiamo eccessivamente